Cavallo ci siamo partiti i cavalli dell'Uomenoni Elettrotreno come sempre velocissimo nella fase iniziale Si porta subito a condurre rimanendo per corsie larghe O fascia che perdono tutti ci siamo fatta per Virgin Queen Che invece rimane allo steccato e va ad incalzare addirittura al leader Sui primi anche lo stesso Arthur Dreams Guagliona che rimane un po' più arretrata E Clorofilla che viaggia all'arco mentre Camulchi è molto dietro Proverà a fare il solito finalone ma deve guadagnare parecchio Elettrotreno comunque sempre in leggerissima evidenza Al centro del gruppo, al suo interno con le maniche bianche Arthur Dreams, a largo si impegna Clorofilla in giallo-rosso Poi ancora Virgin Queen, ancora Guagliona A largo di tutti Camulchi, Elettrotreno sul terreno Stenta a progredire, lasciando in lotta Arthur Dreams e Clorofilla Cramulchi a largo di tutti che si sta ingambando Poi Guagliona, Clorofilla che è passata definitivamente Su Arthur Dreams e su Camulchi che finisce bene a largo Ma troppo tardi, Clorofilla vince Lomenoni E lo vince anche benissimo davanti a Camulchi Poi Arthur Dreams, Elettrotreno, Guagliona e Virgin Queen Clorofilla la zampata Nel finale di giornata per Luca Magnezzi Il clore del signor Vincenzo Caldarora, il trainer di Marco Gasparini Tornando sulla velocità, Clorofilla non delude Con il suo gioco che si permette addirittura al luzzo di una carezza Quando la corsa deve ancora finire I complimenti per una Clorofilla che vince di una lunghezza abbondante Quasi due addirittura Su un Cramulchi sempre efficacissimo nei suoi finali Al terzo Arthur Dreams Mentre Elettrotreno purtroppo su questo terreno Proprio non riesce ad essere Proprio non riesce ad essere